salve ragazzi eccoci in questo nuovo video siamo in un altro unboxing come potete vedere questo pacco nero proviene da un sito di articoli da software che è safara e ma che safara salve ragazzi eccoci in questo nuovo video in questo video unboxeremo questo pacco che viene da tango software e quindi naturalmente avremo a che fare con articoli da software e avremo c'è un unboxing diverso dal solito perché oltre cose nuove avremo degli articoli che ho mandato a riparare quindi vedremo degli articoli che avete già visto in altri unboxing che però sono stati riparati tango software come potete vedere riveste totalmente i pacchi di questa guaina nera e un sacco di rimandizie che però va bene comunque molto protettiva visto che tutti conosciamo bartolini guardate come l'hanno impacchietato tutto bene ed ecco il pacco vero e proprio troviamo subito qualche articolo interessante oltre a tantissimo cartone unboxing dentro l'unboxing questi sono gli articoli che abbiamo fatto riparare che poi abbiamo le cose nuove che ho acquistato per qual mega pacco di prima è rimasto tutto questo iniziamo da queste due tre cosucce che ho comprato io abbiamo una e altre due bombolette di co2 come potete vedere l'ho prese perché ne ho fatte fuori giusto tre delle cinque che avevo ordinato per provarla il caricatore che alla fine si era rivelato difettoso che mi hanno messo in questa fantastica scatola di cartone molto comodo insieme età piccola patch questa piccola per 101 ink che molto particolare infatti c'è l'evoluzione l'ultimo personaggio è un militare cosa particolare che è veramente minuscola me l'aspettavo un po più grande ma vediamo come succede sempre l'ho pagata a 4 euro e in plastica e come potete vedere insieme vi danno sia la patch che il velcro da poter cucire da qualsiasi parte ma io penso che l'attaccherò sul mio tattico comunque molto piccola molto bella molto carina qui in questo pacchettino più piccolo invece abbiamo le cose che avevo mandato a riparare che loro mi hanno prontamente rispedito indietro l'hanno rimpacchettato un po modo loro però hanno tirato il pacco originale che avevo fatto spero di non aver tagliato nessun caricatore ecco qui potete vedere c'è questa valvola che è quella che c'era dentro il caricatore quella che è stata sostituita che abbiamo me l'hanno rimessa nell'impatto nell'imballaggio che le avevo creato io molto accurato per non rovinare però per non rovinare i nostri caricatori ecco questo come potete vedere è un caricatore a green gas per beretta m92 è molto danno è stato usato al mio e l'ho mandato per fargli riparare questa per fargli cambiare questa valvola superiore che non funzionava tanto bene infatti sparava solo 15 colpi con un pieno di gas mentre normalmente ne dovrebbe sparare almeno il doppio qui invece abbiamo questo caricatore sempre della ue sempre a green gas soltanto che della g17 e questo invece è di sky il suo caricatore al contrario del mio necessitava il cambio della valvola inferiore che per qualche motivo perdeva avevamo provato a ripararlo ma non siamo riusciti quindi le abbiamo fatto cambiare e abbiamo fatto cambiare la valvola e qui in quest'ultimo pochettino abbiamo questo qua che ok perché non ci potesse credere ho lanciato senza guardare con questa mano e ho centrato il cartone il mio caricatore è sempre m92 ue soltanto a co2 ho preso questo caricatore perché ero curioso di provare il co2 perché la mia pistola col green gas alcune volte ha problemi il caricatore ancora nuovo perché l'ho provato diverse volte ma non andava io gli avevo chiesto di cambiare questa valvola loro a quanto pare mi han detto che il problema non era quello che era solo un problema di lubrificazione come ultimo articolo abbiamo questo il metto della emerson che è per rotoli ecco qua emerson che è un exf bump helmet protective google scusate ma c'era la barra in mezzo dai scusatemi ma io come pronuncia non ci sono però vabbè è molto bello dream long pagato circa 32 euro sono i nuovi modelli emerson che sono usciti da pochissimo e io dalle foto mi ha detto di sky sembrava una figata e così è infatti perché è bello ma tanto vi giuro questa è la vista davanti ecco qui lateralmente ok cerchiamo di descriverlo un pochettino nel metto è in plastica sicuramente abbastanza pesante però comunque è veramente ben equipaggiato qui lateralmente abbiamo delle slitte per poter attaccare diversi accessori ve li chiedo ovunque per le vostre patch qui davanti la possibilità di attaccare gadget quali visori notturni oppure attacchi per action cam qua dentro è veramente molto molto imbottito all'interno c'è il classico polistirolo emerson e doppie protezioni infatti si possono cambiare potete fare quello che volete in gomma morbida per adottarlo alle vostre misure e poi naturalmente qua davanti abbiamo gli occhiali che adesso c'è l'adesivo della emerson insieme danno solo questo catalogo tutti gli elmetti della emerson che non sono pochi e questo fantastico poster l'attaccare in cameretta ecco molto bello molto bello della emerson bene ragazzi questo unboxing è finito grazie per aver guardato se avete qualche domanda riguardo i prodotti non abbiate problemi a chiedere e ci vediamo al prossimo video